Dimmi chi è Kobo. Kobo, secondo alcuni, è un narcotrafficante. È un assassino di Monaci. Kobo è un bambino che non crescerà mai. Kobo in cerca della libertà. Io so che Kobo ha combattuto. È una regina. È un cavaliere pazzo. Kobo può essere chiunque. Kobo sono i personaggi, le storie e i libri che ami. Da leggere quando e dove vuoi. Kobo Touch a 99 euro con tre e-book in regalo. Online nelle librerie Mondadori. Sono i amici. Non ci sono i mieiята. Occhi.